L'importanza di questa collaborazione con l'associazione Fiore di Lino di Soveria Mannelli e quindi anche con le attività del Comune sono molto importanti e Liberi TV nasce proprio da questo. Essendo una web tv noi come appunto Sottopancia come acronimo abbiamo liberi spazi di parola. Durante il periodo estivo ci sono stati vari eventi organizzati proprio dall'amministrazione comunale di Soveria Mannelli, nello specifico dal professor Mario Caligiuri che con la sua università d'estate ha dato risalto e rilievo alla città di Soveria Mannelli e possiamo dire che da sempre Soveria Mannelli è stata una città che ha portato lustro non solo alla provincia di Catanzaro ma alla Calabria intera. Di conseguenza io credo che il Comune e in questo caso l'associazione Fiore di Lino abbia voluto rilanciare, rivalutare il messaggio della comunicazione, della bellezza, della cultura con personaggi noti come ad esempio Rubettino, ma parliamo anche dell'anificio Leo sul territorio e di altri professionisti. Quindi Liberi TV vuole dare il suo contributo essendo un mezzo di comunicazione gratuito che può essere appunto fruito da chiunque sulle frequenze di Liberi TV e questa partnership che nasce con l'associazione Fiore di Lino e col Comune di Soveria Mannelli credo sia molto prolifica perché immagino che da qui a breve vedremo non soltanto un archivio molto vasto che si andrà sempre ad arricchire ma soprattutto vedremo della cultura che si incrementerà e soprattutto che non si perderà perché la cosa importante è valorizzare il territorio, questo è quello che poi in fondo vuole fare l'associazione Fiore di Lino, vuole fare Soveria Mannelli e quello che è interessato poi anche a fare Liberi TV, valorizzare le eccellenze del territorio, non farle perdere, non farle disperderle ma anzi addirittura farle moltiplicare perché l'importanza proprio della valorizzazione del territorio è poter diffondere la cultura, diffondere l'arte, diffondere la bellezza sul territorio e in Italia. Quindi io ringrazio l'associazione Fiore di Lino per aver dato la possibilità a Liberi TV di svolgere questo servizio che è un servizio di libertà e di trasparenza, il Comune di Soveria Mannelli perché nella persona del sindaco Leonardo Sirianni ha sancito questo protocollo d'intesa e quindi auguro un buon lavoro a noi, all'associazione Fiore di Lino e al Comune e soprattutto auguri per questo 210esimo compleanno di Soveria Mannelli perché se Soveria Mannelli è ancora qui oggi con questa amministrazione comunale vuol dire che comunque ha un futuro. Questo pomeriggio sono stati siglati due importanti protocolli d'intesa che sanciscono un passo avanti per rendere ancora più fruibili le attività culturali promosse nella città di Soveria Mannelli. Attraverso le attrezzature e le strutture messe a disposizione dell'associazione telematica Liberi.tv L'associazione Fiore di Lino potrà promuovere e documentare gli eventi di alto spessore culturale che sono all'ordine del giorno nella nostra città come convegni, seminari, gli incontri con le personalità del mondo della cultura, le lezioni dell'università d'estate e le presentazioni dei libri. Ringrazio il sindaco Leonardo Sirianni per la possibilità che ci ha dato che sicuramente contribuirà alla promozione e al rilancio di questa città. Grazie a tutti.